Ciao ragazzi, oggi ho deciso di cambiare gioco, tra i tanti giochi che ho ho scelto GTA V. Ragazzi ditemi nei commenti se vi piace questo gioco. Comunque continuerò anche Minecraft. Ho detto tutto, possiamo partire! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono sempre SunGaming106, qui siamo con il nostro carissimo Trevor e oggi, indovinate cosa faremo? Faremo la guerra più totale. Intanto dobbiamo metterci dei vestiti adatti alla guerra. Vediamo cosa ci possiamo mettere. Trevor è pieno di vestiti. No, queste non sono proprio... No, non va bene. Oh, va bene. Per bene. Intanto mettiamoci una maschera proprio da Space Monkey, che fa davvero paura a tutti. Pantaloni. Ci mettiamo questa maglia qui. I pantaloni. Ci mettiamo questi da militare. Siamo prontissimi per fare la guerra più totale. Quindi usciamo dalla nostra carissima roulotte. e andiamo a fare la guerra più totale. Come vedete siamo pieni di armi. Guardate. Non ci abbiamo il bazooka, però ci abbiamo il lanciagranate che è fortissimo. Spascia tutto. Quindi adesso dirigiamoci subito allo Santos. Andiamo qua giù. E andiamo... Allo Santos. Allo Santos. Prendiamo la nostra bellissima moto da fuori strada che va velocissimo. Va a 2000. E possiamo partire. Ok, andiamo ragazzi. Ma guardate che salti fa. Va velocissima questa moto. Con questa moto certo che si faremo una guerra più totale, ragazzi. Certo. Andiamo. Siamo quasi arrivati. Con questa fuori strada siamo velocissimi. Siamo anche... Au. Oh, signorina. Non mi venga più addosso, eh. Dove sto andando? Ok, cominciamo un po' male. Perché sto andando... A caso. Ok, aspetta. Ok, andiamo in strada. Uh. Che salto. Wow. Siamo velocissimi. Wow. Vediamo. Bisogna andare dritto dritto e poi siamo arrivati. Dobbiamo uscire da questo schifoso deserto. Wow. Oh, che figata andare in moto. Wow. Wow. Spacchiamo questo cartello. Non l'abbiamo spaccato, però. Peccato. Spacchiamo questi cartelli. Dobbiamo spaccare... No, non li ho spaccati. Dio mio. Ecco il primo grattacielo di Los Santos. Siamo appena entrati in città e possiamo appena iniziare il caos più totale del mondo. Michael e Trevor sono stati esiliati dalla città. Ma gli scagnozzi di Martin li intercereranno. strano. Ma gli scagnozzi di Martin... Ma gli scagnozzi di Martin... Corri, scappa! Ok, perfetto. Possiamo iniziare la guerra più totale. Ci nascondiamo? Corri, Trevor! Ok, nascondiamoci qua. Possiamo cominciare. Cominciamo con il fucile. Ok. Usiamo il fucile a pompa. Sono tutti spagnoli questi. Mori. Questa è la guerra più totale. Usiamo lo spara granate. Morite. Perché questa è la guerra più totale. Statemi lontani. Arriva anche la polizia. Stanno arrivando altri uomini. Bene. Surprising. No, arrivano anche gli elicotteri. Non ci credo. Questa sicura è una guerra. Adesso prendiamo il nostro fucile a pompa. Sterminiamoli. La bomba adesiva. Questa è la guerra più totale. No. No. Ecco come finisce una guerra. Così. Ecco però abbiamo fatto abbastanza caos. Abbiamo distrutto tutti gli uomini di Mardraso. Però comunque ragazzi se questo video vi è piaciuto commentate, lasciate like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.